guerrieri me l'avevate chiesto in tanti esaudisco i vostri desideri sono le 20 siamo in appennino direzione san pellegrino in alpe ha nevicato vedo già il sale in terra immagino sia il sale stiamo salendo da sant'annapelago direzione san pellegrino in alpe 3 gradi centigradi sopra lo zero fa freddo dai andiamo su spingolo con pian della gotti continuiamo 2 gradi centigradi ragazzi comincia la nebbia siamo allo svincolo tra toscana e emilia romagna giriamo verso il san pellegrino in alpe è tutto bianco ragazzi tutto bianco in mezzo di strada mi sembra di capire che c'è il sale nebbia siamo a un grado centigradi 1650 metri sul livello del mare quasi 1700 c'è una nebbia fa paura sono le 20 di sera svincolo siamo al confine entriamo in toscana fine emilia romagna in inizio toscana tutto bianco siamo quasi sul san pellegrino in alpe hanno spalato la strada è buona merito di paolo eh ragazzi paolo ha spalato lo so che è stato lui ormai c'ho il pilota automatico però qui siamo sullo svincolo eccolo san pellegrino in alpe ragazzi stiamo scendendo i tre tornanti peggiori eh la strada è ghiacciata ma siamo tranquilli dai ho montato oggi le termiche quindi non dovremmo avere problemi salutiamo paolo ciao paolo da pacetto eh paolo ciao eh ci vediamo ciao campione ciao paolo abbiamo salutato paolo guerrieri scendiamo la strada è perfetta iniziamo qui c'è un gatto i tre tornanti in discesa nebbia siamo a 1500 metri sul livello del mare guerrieri primo tornante secondo tornante aggiornamento appennino ragazzi top terzo tornante ragazzi il peggio è andato c'è un po' di nebbia adesso andiamo in direzione chiosa io vi saluto mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella lasciatemi un like alla grande buon fine settimana a tutti i guerrieri buona serata ciao belli grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti